Primo piano dunque i temi dell'ordine pubblico in questa fase di allentamento delle restrizioni dopo gli episodi di eccesso nei principali centri della regione. Servono controlli ma anche educazione e senso civico. Secondo il capo della polizia, Lamberto Giannini, intervenuto oggi alla cerimonia di intitolazione della via di accesso alla questura di Perugia a Emanuele Petri, il sovrintendente di polizia ucciso dalle nuove Brigate Rosse 18 anni fa. I servizi di Luca Ginetto. Tornare in libertà sì ma senza eccessi e degenerazioni. Dal ritorno in zona bianca l'Umbria ha visto un susseguirsi di episodi, tanto che sono scattati i primi provvedimenti restrittivi nei confronti di alcuni giovani da parte della questura. E soprattutto nei due capoluoghi, a Perugia e a Terni, che si è assistito negli ultimi due weekend a risse, schiamazzi e assembramenti. Lo stesso assessore comunale alla sicurezza di Perugia, Luca Merli, ha chiesto al prefetto un nuovo tavolo per l'ordine pubblico. Oggi se ne è subito parlato in occasione della visita nel capoluogo regionale del capo della polizia, Lamberto Giannini. Io penso che la Movida sia un segno di ripartenza che va però fatta con i dovuti criteri, con i dovuti modi nel rispetto delle regole. E quindi servono sia controlli ma anche educazione e senso civico. Le forze dell'ordine tutte stanno agendo con responsabilità per consentire un progressivo ritorno alla normalità ma senza eccessi. La Movida è una risorsa ma va gestita. Ci stiamo attrezzando non solo con i controlli ma anche con altri tipi di provvedimenti per poterla incanalare. Resta il nodo organico. Con il declassamento in fascia B la questura di Perugia avrebbe bisogno di rinforzi anche in vista della stagione estiva. C'è una forte esigenza e richiesta di sicurezza in tutta Italia però chiaramente città come Perugia la posizione viene sempre attentamente vagliata e sarà tenuta nella massima attenzione.